Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati qui negli studi di GoTV per un nuovo appuntamento di GoReal Estate, l'ultimo prima della chiusura estiva. Do il mio caro benvenuto al caro collega Marco Buonavita, buonasera Marco. Buonasera Elaria. Ci attende una puntata sensazionale questa sera perché abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi in studio anche Mattia Colantoni. Buonasera Buonasera Elaria, buonasera a tutti. Parleremo di una tematica molto importante, dei portali immobiliari e soprattutto di Wikicasa, giusto Marco? Esatto, oggi Elaria come ben detto parleremo, è una puntata dedicata ai portali immobiliari, è la prima volta che lo facciamo e sono anche ben contento, tra l'altro lo facciamo con Mattia che rappresenta appunto la società Wikicasa che è una società leader per quanto concerne i portali immobiliari. Nello specifico approfondiremo quanto i portali immobiliari sono importanti e decisivi in quelle che sono le compravendite per valorizzare gli immobili e poi per la ricerca, soprattutto per gli utenti, in diversi ambiti, quindi residenziale, industriale e commerciale. Bene, visto che le tue parole mi incuriosiscono sempre, adesso vorrei capire un pochino meglio da Mattia qual è stato il tuo percorso professionale e se ci puoi dire qualcosa di più in merito a Wikicasa. Assolutamente, ma io intanto sono in Wikicasa da ormai sei anni, quindi sono entrato nel progetto quando sostanzialmente era poco più che un powerpoint, nel senso che eravamo in tre in azienda, quindi tutti si occupavano un po' di tutto, esatto, e non c'erano ruoli ben definiti. Siamo venuti quindi come la classica start-up, quando si racconta quindi del garage, noi eravamo realmente all'interno di un garage, tutti facevano un po' tutto. Siamo cresciuti, siamo un portale oggi che lavora a livello nazionale e abbiamo ormai 40 dipendenti, quindi anche a livello di risorse umane continuiamo a crescere e investire e crediamo proprio che nonostante il nostro focus sia sulla tecnologia, questa non si può sviluppare se non grazie a delle risorse umane valide e quindi il nostro primo obiettivo è portare al bordo nuovi talenti che siano ingegneri, commerciali, marketing, ragazzi giovani che abbiano voglia insieme a noi di condividere il progetto e oggi abbiamo ormai un portale affermato a livello nazionale, come diceva Marco siamo tra i tre player più grandi a livello nazionale e il portale raccoglie ormai circa 50 milioni di visite all'anno con oltre 13 milioni di utenti unici, quindi persone diverse che annualmente si rivolgono a Wikicasa per cercare un immobile da acquistare, da affittare, che sia questo residenziale o commerciale. Bene Mattia, innanzitutto complimenti per il tuo percorso professionale. Marco, da quanto tempo invece il gruppo One Real Estate è presente su Wikicasa? Guarda, siamo presenti su Wikicasa dal 2016, quindi sono passati sei anni ed è una data vicina appunto a quando è nata appunto Wikicasa, è nato tutto per una telefonata che è arrivata in ufficio chiedendo un appuntamento ovviamente con il titolare per avere appunto un incontro rappresentare, presentare quello che è la nuova iniziativa. Devo ammettere che all'epoca ero scettico per vari punti, innanzitutto era appunto una start up quindi ancora non era ben nota nel settore e poi la seconda è che in passato ho avuto altre esperienze analoghe con cattivi risultati, quindi ovviamente ero già partito con una predisposizione negativa. Ad ogni modo è stato fissato all'appuntamento, ho conosciuto Mattia e devo ammettere che sin da subito ho avuto una percezione positiva per l'impatto commerciale della persona, ma quando intendo impatto commerciale non vuol dire il classico venditore, ma perlopiù è stata la sua presenza a volermi evidenziare una consulenza proprio a livello di portali, evidenziandomi con molta trasparenza quelli che potevano essere i punti di forza e i punti di debolezza della nuova start up. Da lì devo ammettere che mi ha convinto, ho voluto scommettere, sono passati sei anni appunto, io continuo ancora a avere collaborazione con Wikicasa perché a ammetto che di anno dopo anno si riescono a ricevere quelli che sono stati gli investimenti fatti, quindi capire il valore aggiunto. Mattia invece, in che cosa Wikicasa si differenzia e soprattutto quali sono i progetti per i prossimi anni, per il prossimo futuro? Come diceva giustamente Marco, noi siamo in grande divenire, in grande crescita, quindi quelli che oggi sono i progetti che abbiamo in mente può essere che poi l'anno prossimo cambino e le esigenze del mercato ci portino verso nuove strade. Noi nasciamo come portale che rappresenta i professionisti, professionisti intendiamo gli agenti immobiliari, quindi su Wikicasa oggi i contenuti vengono inseriti soltanto dai professionisti del settore immobiliare e questo ci permette ovviamente anche di essere garanti verso l'utente finale che cerca un immobile sul portale di contenuti di altissima qualità. La principale criticità di chi si rivolge oggi alla ricerca online non solo per una casa da acquistare, da vendere, ma anche per un'automobile, una casa a vacanza o quant'altro è proprio avere garanzia poi della qualità del prodotto che sta cercando, che sta affittando. Quindi la nostra principale differenza rispetto ai nostri competitor è appunto questa, di ricevere inserzioni di grandissima qualità e questo ci permette quindi di dare all'utente i migliori risultati in termini proprio di qualità di informazione. E poi ovviamente i progetti futuri sono quelli di andare a sfruttare ancora maggiormente la gran mole dei dati che oggi raccogliamo con il portale. Noi oggi non abbiamo soltanto wikikasa.it ma siamo proprietari di altri due portali, uno è casaclick.it e un altro è commerciali.it che è un portale che dedichiamo proprio agli immobili per l'impresa e andiamo su questi tre portali a raccogliere circa 700.000 inserzioni. 700.000 inserzioni vuol dire poi con 13-14 milioni di utenti unici all'anno raccogliere una gran mole di dati sia per quanto riguarda l'offerta di mercato sia per quanto riguarda la domanda. E questi sono ovviamente tutti dati che mettiamo a disposizione sia dei professionisti andando poi a creare dei tool che permettano per esempio ai nostri inserzionisti, ai nostri clienti di avere degli strumenti per valorizzare l'acquisizione, le valutazioni, ma anche dell'utente finale a cui mettiamo a disposizione i nostri big data all'interno di wikikasa.it per effettuare ad esempio una stima del proprio immobile e capire se per esempio il valore durante gli anni è cresciuto, sta crescendo, sta riminendo. O è rimasto invariato. Esatto, quindi sicuramente il focus dei big data è e sarà sempre di più centrale all'interno del nostro percorso perché oggi, non me ne voglia Marco, chi cerca casa ormai si rivolge in primis al portale. Il portale è il primo touch point dell'utente che cerca casa, quindi i portali sanno esattamente chi cerca il bilocale, chi ha bisogno di mutuo e quali saranno anche i trend di chi cerca casa in ogni zona d'Italia, quindi quello sarà il nostro futuro. Bene, grazie Mattia, grazie Marco perché abbiamo appreso le dinamiche dei portali immobiliari, ora però piccolo, però è pubblicitario, ma mi raccomando rimanete sintonizzati perché subito dopo parleremo del trend del settore immobiliare. A tra poco. Ciao, stai pensando di vendere casa e non sai da dove cominciare? One Real Estate è la prima agenzia immobiliare in grado di garantirti una vendita entro 90 giorni, altrimenti hai diritto ad uno sconto provvigionale del 30%. Chiama il numero verde di One Real Estate, 883 25 22. Ben ritrovati qui negli studi di GoTV per GoReal Estate, sempre in compagnia di Marco Bonavita e Mattia Colantuoni. Nella prima parte della puntata abbiamo parlato dei portali immobiliari, ora parleremo del trend del settore dell'immobiliare, sia locale ma anche nazionale, giusto Marco? Sì esatto, riprendiamo un po' il filone di un discorso fatto già settimana scorsa, ma oggi magari lo improntiamo in maniera differente, poi avremo anche dei dettagli di chi, appunto come ha detto prima Mattia, raccoglie i dati e sa analizzarli sicuramente meglio che le proprie sensazioni. Ad ogni modo comunque facendo un panorama al trend attuale, ovviamente io mi riferisco sempre nelle zone in cui opero, quindi Milano, Monza e Brianza, si può dire che nonostante siamo in una situazione di inflazione, nonostante siamo in una situazione dove c'è ancora in essere il conflitto Russia-Ucraina, nonostante insomma ancora non siamo completamente fuori dalla pandemia, il mercato immobiliare regge, cioè almeno per quello che sono le richieste, per quelle che sono le compravendite, con delle richieste differenti in base alle varie posizioni, su Monza e Brianza sono più ovviamente ricercati i tagli con spazi esterni importanti, le nuove costruzioni, gli immobili ecosostenibili, Milano, Milano ovviamente è una metropoli e diciamo che tendenzialmente una volta che l'immobile è a prezzo, qualsiasi tipo di taglio è compravendibile, ecco quindi sicuramente questa è la situazione, per quanto riguarda l'indomani diciamo che Nomisma, che diciamo raccoglie un po' i dati e le provisioni, ha dimostrato che il 2021 ha avuto un più 30% rispetto all'anno precedente e quindi intorno ai 740 mila compravendite l'anno, ad ogni modo per il prossimo biennio garantisce ancora un trend intorno ai 700 mila, quindi vuol dire che nonostante tutto le cose sono positive, poi ovviamente sarà il tempo a definirle. Bene, grazie Marco, invece Mattia per quanto riguarda a livello globale, generale e nazionale, come vedi il trend del real estate? Allora beh ovviamente come diceva Marco si è chiuso il 2021 che è stato l'anno di grande ripresa, nel senso che dopo la crisi, dopo il Covid, il 2021 è stato veramente l'anno in cui le nuove transazioni, anche rispetto alle previsioni Nomisma ad inizio anno, siamo andati ben oltre quelle che erano le previsioni. Escudo Milano perché diciamo che Milano veramente non fa più parte neanche dell'Italia a livello proprio di compravendite immobiliare, sì anche rispetto ad altre grandi metropoli come Roma, Firenze, Bologna, ha comunque un trend totalmente diverso, quindi ogni immobile come diceva Marco è compravendibile a Milano, anche perché Milano oltre a avere tantissima domanda ricordiamoci che è una metropoli ma di estensione è ridotta, quindi c'è pochissima offerta, ci sono pochissimi immobili in vendita, soprattutto immobili belli, quindi il nuovo soprattutto ovviamente ha dei trend. A livello nazionale quello che abbiamo potuto notare noi è che oltre a mantenere un trend secondo noi positivo anche nel 2021, anche se nel 2022, anche se probabilmente non ripeteremo lo stesso risultato del 2021, quello che abbiamo visto è che sono cambiate le necessità di chi va a cercare casa. Se avessi dovuto disegnare l'immobile, lo stereotipo di immobile tipico ricercato ad inizio, prima della pandemia, era sicuramente diverso da quello che oggi invece le persone cercano online con grande attenzione agli spazi più ampi, spazi all'aperto, perché con lo smart working, tutte nuove modalità di lavoro a distanza e nuove necessità, ma anche proprio l'idea di poterci ritrovare domani a dover rivivere l'immobile. Volevo dirlo io, magari la paura di ripiombare nuovamente in una situazione che abbiamo già vissuto e speriamo sia rimasta alle spalle. Ovviamente questo ha totalmente modificato le caratteristiche richieste da chi cerca casa oggi. Vale sia per le metropoli che per le province o comunque i piccoli centri che in termini percentuali hanno avuto una crescita l'anno scorso anno addirittura superiore alle grandi metropoli, che ovviamente in termini assoluti crescono più di tutti, ma in termini relativi anche i piccoli centri stanno avendo una crescita importante. Quindi insomma comunque le prospettive sono positive nonostante la crescita dei tassi dei mutui piuttosto che altre dinamiche come la guerra. Marco adesso una domanda per te un pochino scomoda, antipatica, visto i temi che abbiamo trattato questa sera e sto parlando dei portali immobiliari. Pensi che l'avanzare della tecnologia possa influire quindi, che possa sostituire nel tempo l'intermediazione immobiliare standard? Sì, al di là della domanda antipatica che lo confermo. Devo ammettere che negli ultimi anni si è fatto grande riflessione, chi ha detto al settore, confrontando anche con altri colleghi rispetto a questo, perché la tecnologia avanza sempre più, sempre più ovviamente in maniera positiva per tutti, ma tante volte, come è già successo in alcuni ambiti, ha eliminato quella che è l'intermediazione di alcuni servizi o prodotti, quindi limitando alcuni tipi di professioni. Analizzando il settore immobiliare, quindi l'intermediazione immobiliare, diciamo che l'agente immobiliare in primis cosa fa? Analizza ovviamente la documentazione, ne valorizza il prodotto, ovviamente cercando di trovare l'accordo tra le parti, ma credo che ad oggi c'è un elemento cardine, che è quello del mediatore, che è quello di saper negoziare, saper mediare, che è un'arte, non la si impara dall'oggi al domani, spesso molte trattative tra privati si interrompono proprio perché non si riesce a trovare un punto d'incontro, perché tante volte basta una piccola frase mal detta che insomma si inclinano i rapporti, invece il mediatore ha proprio questa grande abilità, quella di far sì che si trova un accordo e le parti possono concludere anche in serenità. Quindi penso che nel breve questo non possa avvenire, onestamente. Ma forse mai in assoluto. Forse mai in assoluto, è quello ovviamente l'auspicio, però non posso prevedere cosa succederà tra 10-20 anni, ma nel breve penso proprio di no. Ad ogni modo insomma chi meglio di Mattia può dirci come potrà avanzare la tecnologia in ambito dei portali immobiliari? Sì Marco, io credo che ovviamente il ruolo dei portali, ma della tecnologia in generale sarà crescente e quindi i portali si prenderanno sempre più spazio. Oggi si parla tanto del fatto che possano arrivare anche a intercettare prima dei professionisti non solo l'acquirente ma anche il venditore. Se guardo però all'estero e mi concentro soprattutto sul settore real estate, spesso gli Stati Uniti sono presi un po' ad esempio perché spesso quello che accade lì arriva poi qui da me in Italia. I portali sono già in una fase più avanzata ma decidono poi comunque di continuare a lavorare i contatti che ricevono anche lato venditori con i professionisti. Quindi io credo che la tecnologia crescerà, si prenderà sempre più spazio, sarà sempre però a servizio del professionista e del cliente finale perché ricordiamoci che l'acquisto della casa è un acquisto tipico, molto emozionale e quindi è fondamentale la presenza di un professionista. Io credo che gli agenti immobiliari verranno sostituiti da un agente immobiliare più bravo, non da un portale. Cioè l'agente immobiliare deve preoccuparsi di un agente immobiliare più bravo di lui che sfrutta al meglio gli strumenti che la tecnologia oggi gli mette a disposizione. Bene, che dire ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi per i temi che abbiamo trattato, sempre molto interessanti. Ricordo ai telespettatori che nel caso volesse trattare degli argomenti specifici di contattarci direttamente sui nostri canali social, quindi io vi auguro un buon proseguimento di serata ma soprattutto una buona estate. A presto!